ciao a tutti benvenuti su magis of lotus per iniziare questa nuova fantastica puntata di chi porcel vi ricordo che potete iscrivervi al canale lasciare un like commentare si va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati vi ricordiamo anche che potete abbonarvi sia su youtube che su twitch su twitch è un po più semplice perché potete farlo con amazon prime video allora a breve tantissime novità non ve le svelo ma saremo ancora più presenti in qualche da qualche parte comunque a breve vi diremo e niente se volete supportare anche il nostro sponsor fantasiastore.it un negozio fantastico pieno 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 di cose spedizioni 24 48 ore veramente veloci codice sconto lotus 5 per avere 5 per cento di sconto sui prodotti non scontati allora oggi vi ho mischiato sia chi porcel che by or not quindi avremo tre quesiti di chi porcel e 2 di by or not vi ricordo che per partecipare a queste rubriche vi basterà scrivere keep or sell con il nome della carta del prodotto che di cui volete una valutazione e oppure by or not con il nome del prodotto di cui volete una valutazione allora il nostro amico mark ci chiede all will be one scusate per il ritardo alcuni sono vecchie purtroppo presi da lord of the ring gli slot non non c'erano quindi vi abbiamo fatto aspettare un pochino all will be one in versione extra oil silk allora parliamo un po delle oil silk in generale allora queste carte come vi dissi qualche mese fa quando uscirono sono destinata a salire secondo me perché il prodotto non era non ce n'era così tanto e comunque era abbastanza costoso e alla fine in ogni bundle ne uscivano due quindi essendo tipo 20 se non erro diverse per averle tutte uno doveva aprire 10 bundle quindi intorno ai 1000 euro di di prodotto per averle tutte in uno per quindi infatti le copie disponibili secondo me non saranno tante e le carte giocate in questa versione poi saliranno tanto il disastro sarà quando qualche carta si giocherà in 4 per allora lì sarà veramente un disastro perché sicuramente salirà vi faccio un esempio in 3 4 per nairi che è una carta che secondo me può essere che prima o poi anche in paio nero da qualche parte con il martello del colosso la giocheranno se quella dovesse essere giocata in 3 per magari sai 10 persone la vogliono e fanno fuori 30 copie in questa versione e finiscono veramente in frettissima allora ci chiede all will be one allora questa è una carta che scomba essendo una carta che scomba era abbastanza facile prevedere un suo una sua salita perché tra l'altro è uscita se non erro poco tempo fa un'altra carta che scomba sempre con all will be one quindi aumentando le carte che scombano fra di loro e con questa carta ovviamente la richiesta sale perché in commander per esempio è un'ottima soluzione se tu giochi un monorosso e vuoi cercare una combo e vuoi giocare una combo veloce scusatemi una combo risolutiva non veloce veloce risolutiva e all will be one è l'ideale quindi secondo me io vedo che per il futuro possa addirittura ancora crescere anche se adesso già alta è perché comunque siamo sui 30 euro quindi comunque un prezzo considerevole secondo me non sbagli se la vendi a questa cifra ma la possibilità che cresca c'è perché purtroppo ripeto le copie non ci sono cioè sono 38 copie niente niente assoluto allora livio ci chiede invece noficoria che ha già avuto uno spike da 7 a 10 euro adesso si è stabilizzata sia un po stabilizzata e allora scritto tutto allora la carta ha sicuramente potenziale la stanno provando in modern però non è detto che quelle liste poi si giocheranno con costanza però ha potenziale ha potenziale un po in tutti i formati anche in commander quindi devo dire che la salita di questa carta è abbastanza facile da prevedere nel senso che essendo che in più formati si giocherà e si gioca più persone andranno a togliere copie quindi la mia risposta su questa carta e kip per adesso tienila perché potrebbe salire in futuro ripeto anche qui se uno la venda 10 euro pace cioè sì magari andrà 20 però magari andrà 20 fra sei mesi o fra quattro mesi o fra un mese non lo posso sapere però diciamo che la carta già un valore consistente quindi chi la vende a 12 può anche non mangiarsi le mani se sale a 20 però diciamo che la strada per questa carte la salita non sicuramente la discesa allora alberto ci chiede un nostro affezionato anche abbonato quindi lo ringraziamo particolarmente ci chiede sacre cat poi lita allora devo dire che è questo assolutamente un cell perché assolutamente un cell il prezzo è troppo alto so che si gioca si può giocare in commander si può giocare in pau per le copie disponibili non ci sono prende non esiste fuori anch'io ne avevo un po qualche qualche anno fa forse un paio d'anni fa un annetto fa e l'ho venduto e quando poi sono salite probabilmente il problema quale di questa carta che adesso vale questa cifra qualora venisse ristampata comune non sai di ristampe tipo commander master per dire il prezzo crollerebbe ancora di più se te la fanno pure magari all day out no perché negli ultimi anni la wizard ci ha abituato a questo quindi devo dire che io non ci penserei due volte la venderei in realtà la carta non è che sia tutto sto granché però ovviamente essendo comune giocabile in pauper si gioca in in gatti di commander quindi alla fine la richiesta c'è e diamo che quindi veramente tantissimi anni in cui non viene ristampata quindi per me però mussella assolutamente allora pino ci chiede scusaci il ritardo pino ci chiede buy or not i prodotti seeded di lord of the ring allora partiamo da collector che ha ricevuto uno spike negli ultimi nei ultimi dieci giorni più o meno allora perché ha ricevuto uno spike perché la wizard ha facendo la wizard in realtà i fornitori hanno fatto sapere a tutti a tutti che hanno tagliato le scusatemi il numero di o mal di gola veramente mi fa male il monopattino non aiuto e hanno tagliato le copie che manderanno ai negozi quindi se un negozio ne aveva chiesti 30 probabilmente ne riceverà 4 8 12 16 20 non riceverà 30 tutti i negozi tutti i negozi tutte le persone che le hanno l'anno richiesti tendenzialmente quindi questo ha fatto salire ovviamente il prezzo di 40 50 60 70 80 euro che è una cifra alta c'è è salito di tanto perché ripeto non sia la certezza di quanti box arriveranno quindi tra l'altro i venditori forse avranno problemi anche ad evadere gli ordini in prevendita faccio un esempio mio e di miei amici noi tutti abbiamo fatto un ordine assieme di bundle gift più un draft box il draft box non credo ci saranno problemi quelli arrivano senza problemi però magari i bundle gift saranno un problema a parte il prezzo che adesso ve lo apro così vi apro tutti i prodotti lord of the ring allora per rispondere alla domanda a 450 non lo prenderei il collector io sinceramente non lo prenderei il set hanno spoilerato tantissime mitiche a potenziale a qualche carta bella assolutamente non mi sembra un set con un po anche salire per commander nel tempo eccetera non lo metto in dubbio però 450 euro è una cifra veramente veramente tanto alta per un singolo prodotto si led l'idea di trovare l'unica anello secondo me non va per niente contata nel senso che ci sta che uno lo voglia provare ad aprire ma dal punto di vista reale del 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 valore del box non conta niente fate conto che la statistica c'è scritto dietro il box probabilmente la probabilità di aprire l'unica anello e lo 0,000 sono 4 0 e poi 3 quindi pensate voi quante probabilità avete quasi nulla per invece aprire per esempio un sorring serialized quella non è che sia facile però è più è molto più facile ma centomila volte più facile quindi qualcosa si potrà aprire però ripeto 450 euro mi sembra troppo andiamo a vedere invece gli altri scusatemi gli altri prodotti sigillati eccoli qua questo è collector vi faccio vedere le buste dell'espansione il gift bundle che è quello che ho preso io vi faccio vedere anche commander e vi faccio vedere anche il bundle normale e il box normale eccolo qua Allora il box normale e sui 155 e questo secondo me non è che non credo che riceverà particolari spike a breve nel senso che boh qua trovi le carte dell'espansione se sei un giocatore se sei un venditore boh si trovi la roba da vendere da comprare da giocare nei vari formati ma non c'è la versione premium Serialize eccetera quindi non non credo che salirà che debba salire Poi abbiamo il set box che potrebbe convenire di più rispetto al draft box e siamo sullo stesso prezzo adesso di solito il set box vale un po di più E sale più in fretta quindi io vi dico se devo dovessi scegliere probabilmente un set box lo prenderei magari io lo prenderò anche 1 2 set box per per Giusto per avere un po di carte il set ripeto secondo me anche abbastanza potenziale quindi a questi prezzi Per un set box di questo tipo di espansioni non sono neanche così cari Apriamo invece il prodotto che ho già preso che il bundle gift box Che grazie alla alla notizia appunto del dei prodotti meno tagliati Che non verranno mandati negozi e schizzato fate conto che noi li abbiamo acquistati e ve lo consigliai quando uscì uscirono le Prevendite Noi li abbiamo acquistati a 30 euro in meno Dovrebbe essere 65 E' successa la stessa cosa che 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 è successo in passato con appunto l'oil silk bundle di Firexia identico in pre vendita 60 65 e poi schizzato a 90 95 uguale Quindi abituatevi a questa cosa devo dire che questo era un prodotto io perché lo consigliavo perché avevo fatti i conti Un collector di questa espansione più otto set booster se non erro più tutto il resto non poteva valere 60 65 euro era un prezzo folle invece venderlo a quella cifra Quindi lo acquistano presi tipo tre io e due i miei amici adesso però il problema è questo vedre vediamo se il venditore che è un venditore Gigante tedesco il venditore spedirà la merce o no qualora non la spedisse e Sinceramente io rimarrei un po così perché uno ti paga anche il Prodotto due tre mesi prima se poi dici che te l'hanno tagliato e che non ci sono Ho capito però se tu proponi la prevendita è perché quel prodotto pensi di averlo adesso non è successo ancora niente però Ho paura che a qualcuno succederà anche per il collector quindi Attenzione Commander signore degli anelli Prodotto Straconsigliato io Li prenderei questi qua sono dovrebbero essere 80 ristampe 20 no Nel in ogni commander quindi le carte nuove non dovrebbero essere così tante e Però comunque le ristampe dovrebbero avere potrebbero avere disegno flavor text diverso e devo dire che il prezzo è Accettabile cioè siamo sui 160 a 70 euro più spedizione devo dire che secondo me ci sta alla grande Il fatpack normale è salito un pochino eccolo qua era un valeggermente più basso e devo dire che il fatpack normale anche Ci sta alla grande sono dovrebbero essere anche qui credo 8 set booster Ci sta ci sta ci sta allora ultima carta ci chiede il nostro amico looks room torrenti al virulc in questa versione invention di caladesh allora È giusto acquistarlo un buy or not non un keep or sell allora secondo me sì ci potrebbe stare investire anche sul 4 per per una semplice motivazione Il mazzurre magma opus creativity di commander centuri di scusate paio nir sono sono cotto di paio nir Secondo me in questo momento potrebbe essere il nuovo tier 1 del formato o comunque rientra nei tier 1 Ed è veramente tanto tanto forte ragazzi e mai tanto tanto forte a parte che ha vinto pro turno lo dovrei dire io se non Se non se non mi sbaglio ma in generale lo dissi già prima che vincesse il pro tour già prima del lato potto di quel pro tour che abbiamo commentato assieme Questo mazzo qua sembrava veramente il più forte c'è veramente Fortissimo ragazzi ti ribalta le partite in una maniera impressionante e ti fa delle big play Pazzesche ma po pazzesche in più per esempio tu dici ah ok allora io esilio cimitero così non fai torrenti al ghiro va bene ma lui Riesce a fare tranquillamente a mano Il 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 magma opus perché per come è strutturato il deck in realtà lo può fare tranquillamente L'abbiamo visto fare a pro tour cento volte quindi Neanche a rest in piso eccetera poi a creativity a torrenti al ghirook dalla mano Veramente tanto fastidioso veramente molto molto forte allora quindi torrenti al ghirook secondo me ci può stare E ovviamente un investimento non per tutte le tasche però per chi ha tanti soldi Ci potrebbe stare prendere magari un settino che vedo qualche ce n'è un 3 per e tenerlo lì in attesa dei prossimi torni ai paio nel che magari Potrebbe schizzare a 70 tante euro a coppia ci potrebbe stare il disegno può piacere o no a me piace Anche se un po particolare e poi mi piace un sacco il layout che è fantastico Allora siamo giunti a conclusione di questo video spero vi sia piaciuto lasciato un like iscrivetevi al canale Commentate si va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi Ciao